La sede sociale della Proloco di Molfetta, preseduta da Felice Visaggio, ha aperto le porte dei locali in piazza Municipio dopo un lavoro di restauro voluto dall'amministrazione comunale. La musica popolare e la degustazione di prodotti tipici pugliesi e le frittelle molfettesi nel giorno di San Martino hanno fatto da cornice all'inaugurazione dei nuovi spazi. Stiamo sempre più potenziando le infrastrutture e i servizi e tra i servizi non poteva che mancare un potenziamento della Proloco con delle sedi idonee di prestigio nel cuore del centro storico a fare rete con tutti gli altri punti di riferimento tipo l'Infopoint e tutte le altre associazioni che si occupano di accoglienze di turismo. Faremo come ha detto il Presidente una Proloco per i giovani, coinvolgeremo anche le scuole di Molfetta, c'è un ITS turismo che ospiteremo nella nostra città, gli daremo il nostro sostegno e anche la stessa municipalizzata della Multiservizi avrà un servizio dedicato proprio ai siti culturali. Una casa tutta nuova nel cuore della città vecchia per l'associazione di promozione turistica, un impulso in più per organizzare eventi e iniziative che valorizzino il centro storico di Molfetta. La Proloco ha una storia importante, è stata fondata nel 59 da un gruppo di persone che guardavano molto lontano e oggi siamo finalmente a un punto di ripartenza con una sede nuova. Ci organizzeremo per tutto l'anno ma anche per gli anni futuri con la ripetizione di eventi già entrati nella tradizione di Molfetta come il Calzone, il San Nicola, la Fiera degli Animali e via di seguito.